Attenzione, attenzione, e non è solo il mio spazio. C'è sempre una prima volta nella vita, come non dimenticare il primo bacio, il primo bel voto a scuola, il primo successo lavorativo. E questa è l'idea da cui nasce Primevolte, raccontare curiosità e avvenimenti attraverso filmati storici che verranno volta per volta commentati qui in studio. Grazie a tutti.